Buonasera, sono Anna Pignataro, mi trovo a Cantinella di Corigliano Calabro per la presentazione del libro di Adelaide Vuono, Un inquilino di troppo. Sono stata invitata da Adelaide, oltre che in veste di amica, anche per presentare, per interpretare un piccolo monologo che tratta appunto l'argomento di cui andremo a parlare. Oltre a questo ci saranno degli inserti letti del libro di Adelaide, cercando di farvi entrare un attimino nel vivo di quella che è stata la sua vicenda, di quella che è stata la sua avventura. Avventura, la chiamo così proprio perché ci trasmette proprio quella che è la lotta contro il cancro, come lei sottolinea, giustamente, di volerlo chiamare con il proprio nome. solo perché se le cose si chiamano con il proprio nome riusciamo ad affrontarle meglio. Per cui io, per come la conosco e per quello che penso, lei in veste di volontaria quella che è ed è sempre stata e penso che sempre sarà, ci sta donando la sua condivisione con la sua esperienza per farne tesoro. Magari può servire da aiuto a qualcun altro che sta vivendo la sua stessa situazione ma anche a chi non la sta vivendo per capire che cosa si prova. E quindi sono molto onorata di essere qui. Grazie. Grazie.